Vedere un figlio, il più buono dei figli, l'innocente, gettato con furia sul legno di una croce, vedere il martello di chiodi, assistere al crudele inchiodamento, vedere schizzare il sangue dalle mani, dai piedi, sentire ripetuti colpi di martello, che strazio per una madre. Quale donna sarebbe morta o sarebbe caduta svenuta o si sarebbe avventata come una tigre sui carnefici? Maria Santissima è là, a pochi passi da Gesù, non parla, non grida, soffre. Soffre in silenzio per assaporare di più l'amarezza del calice. O donna, il tuo dolore è grande come il mare. Tu puoi dire, o voi tutti che passate per questa via, fermatevi e vedete se c'è dolore simile al mio. Ave Maria, piena di dolori, il crocifisso è con te. Addolorata sei tu fra le donne e addolorato è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre del crocifisso, ottieni lacrime di compunzione a noi, crocifissore del figlio tuo, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie a tutti.